Il defibrillatore installato per il corso in memoria di Giulio Tullimiero è distrutto dai vandari. Tornerà a suo posto perché è un dono e un bene della città. Mario Tullimiero, padre del compianto avvocato, deceduto il 13 novembre del 2020 all'età di 48 anni per infarto, non si arrende alla violenza dei balordi che, una sera di fine aprile, hanno messo fuori uso il prezioso strumento salvavita donato dai colleghi di Giulio al Comune e quindi alla città e, in attesa degli sviluppi delle indagini avviate sul caso dalla Polizia Municipale, assicura che nonostante il dolore e l'amarezza per l'ultraggio subito, quanto prima provvederà a rimettere in funzione il defibrillatore per il corso sulla stessa parete della galleria da dove i vandari lo hanno sradicato, scaraventandolo a terra con violenza. Un ride che sarebbe stato compiuto da una baby gang composta da quattro minori dell'età tra i 12 e i 14 anni. L'azione dei ragazzini autori dell'incursione è stata ripresa dalle telecamere di videosoveglianza, tra l'altro ad alta definizione, in dotazione ad alcuni esercizi commerciali della zona. La qualità delle immagini e dei video acquisiti dagli investigatori potrebbe quindi favorire l'identificazione dei giovanissimi vandari da parte della Municipale. Gli indizi raccolti nel corso delle indagini condotte in stretto riservo, visto il coinvolgimento di minori, potrebbero quindi assestare una svolta che si augurano in tanti, visto il segno che ha lasciato in città la vicenda. Intanto il defibrillatore tornerà sul luogo dello Scempio. Un messaggio d'amore per la città più forte dei vandali e degli incivili che hanno violato la memoria di Giulio, ma hanno fermato il suo cuore che batte sempre in ognuno di noi.